Qua è la pasta con i ricci, fatta da Giorgio. Ecco il pesce fresco che ho mangiato qua. Ciao belli! Oggi ti porto a mangiare finalmente dove io non mi trovo solo bene, dove il servizio è una cosa spettacolare, ma dove io mi sento a casa. Oggi sono accompagnato papà e regia. Allora questo è il quadro dei clienti e degli amici del proprietario. Albano. Totti della Roma. Vabbè anche i cantanti. Riconosceteli voi. La pasta de cecco perché qua non siamo in Albania, siamo in Italia. Allora prima di presentarvi il proprietario del locale, vi faccio vedere il locale. Abbiamo orate. Dentice. Dentice. E scrivetelo voi nei commenti se sapete qual è questo pesce qua. Ok. Io adesso vado a sedermi e vi presenterò anche Giorgio. Bruschetta con patè d'olive, pomodoro e olio. Allora il primo è tonno pinna gialla, salmone, carpaccio di polipo, carpaccio di polipo e le alici marinate. Antipasto. Antipasto. Iniziamo a mangiare ma... Profumo di mare. Il nostro. Quindi questa qua è la pasta con i ricci fatta da Giorgio. Non vedo l'ora di mangiarla, io non vedo l'ora di mangiarla. E' difficile trovare tra l'altro un piatto del genere in Italia, guardiamo i ricci, guarda che Elvis mi lo fa vedere. Si muove ancora. Questa che è l'impiattamento. Eccole. Io vi dico buon appetito perché sto sentendo un profumo incredibile. Grazie Giorgio. E' arrivato anche il cartoccio. Facciamo le verdure belle grigliate. Ora scompiamo il cartoccio di pietro di pranzino o la spirula. Una la volete chiamare voi. Spettacolare. Oh, profumo. Regia, sei pronta a mangiare? Eccoci. Grazie. Ok. Buon appetito. Buon appetito. Grazie. Allora sorbetto, anguria, limone, menta e melone. Ovviamente sorbetto per tutte e tre ma il papà sta già mangiando e l'unico che non mangerà il dolce sono io. Al dolce. Ciao. Ciao. Siamo a passaggio finale col tiramisù e soprattutto ora vi faccio vedere questa cosa. l'apertura del tortino al cioccolato. Oddio. E io tutto questo non lo posso mangiare perché lo mangerà la regia. Meglio, lo mangio io. Mamma mia che cosa c'è. Con la crema chantilly. Con la crema chantilly mi suggeriscono. Diciamo perché quella è una cosa fenomenale. Va bene. Allora buon appetito regia. Grazie Elvis. Buon appetito papà. E io niente. Ecco il pesce fresco che ho mangiato qua. Eccolo qua. Ok abbiamo mangiato. Giorgio dammi una salutata. A chi? A me dai. Saluta i miei followers. Ciao belli. E adesso si va a casa a farci una dormita. Ciao a tutti. Grazie di essere venuti con noi.